La Giunta Provinciale ha approvato l'avvio di un progetto pilota per promuovere le politiche alimentari sostenibili. Si tratta del primo passo concreto del percorso concordato con il commissario europeo Andrew Kaitis che, nella sua visita a Bolzano il 4 giugno, aveva manifestato il proprio convinto appoggio alla proposta altotesina di avviare un progetto europeo pilota per promuovere la sostenibilità alimentare. La società provinciale IDM verrà ora incaricata di elaborare un piano per la realizzazione di questo progetto. La Giunta Provinciale ha formalizzato la nomina di Florian Zerzer alla carica di direttore generale dell'azienda sanitaria dell'Alto Adige. Zerzer, 53 anni, laureato in informatica all'Università di Torino con specializzazione in informatica economica. Dal 2013 è direttore del Dipartimento sviluppo del territorio ambiente e energia in precedenza, è stato per due legislature direttore del Dipartimento alla Famiglia, Sanità e Politiche Sociali della provincia. Con la delibera approvata dalla Giunta Provinciale, il progetto Plus 35 per il sostegno economico finalizzato all'inserimento lavorativo di persone con disabilità viene ulteriormente ampliato e passa dal contingente originario di 115 posti a tempo pieno agli attuali 131 posti.